Intanto una piccola variazione sul programma, il professor Giunchiglia sfortunatamente oggi non può essere da noi perché ha avuto un impegno, in questo momento è a Perugia, ma diciamo che abbiamo quattro relatori che sicuramente vi permetteranno di capire due cose. Uno, l'importanza dei dati, due, come un uso intelligente dei dati possa rendere effettivamente una città smart. Questa iniziativa è stata proposta all'interno di quella che sarà da settembre una nuova laurea magistrale interdipartimentale in data science. Cos'è il data science? Il data science non è, perché ormai non riusciamo ancora a definirlo chiaramente, comunque non è un informatico, non è un matematico statistico, non è un macinatore di dati, ma bensì è tutte queste cose assieme. È una persona che ha capacità informatiche, è una persona che ha capacità matematico statistiche, è una persona che però ha una terza competenza che è quella di prendere i dati e tradurli all'interno delle tematiche specifiche in cui devono essere applicati. E quali sono gli ambiti dove vengono applicati? Tutti. Abbiamo data science che si occuperanno di problemi legati ai sistemi sociali, quindi avremo quello che viene chiamato il computational data science. Avremo invece un data science che si occupa più degli aspetti legati all'industria e quindi legati alla manutenzione preventiva, predittiva oppure alla produzione dei sistemi e quindi all'ottimizzazione dei sistemi. Oppure avremo quelli che si chiamano business analytics, ovvero sia data science che hanno competenze di tipo economico da applicare all'interno delle aziende. Così come avremo invece data science che andranno più, avendo competenze soprattutto psicologiche, a fare quello che si chiama profilazione dei consumatori. Avremo poi altri due percorsi che sono il data science informatico, quello vero che sa maneccinare i dati ma che avrà competenze negli altri campi e il matematico statistico che svilupperà modelli. Detto ciò, quello che noi facciamo oggi è una cosa molto semplice, come attraverso dati si possa leggere la città e come attraverso i dati e avendo la capacità di leggere la città si possono sviluppare servizi, politiche e rendere non solo la città smart, ma quello che si sta pensando e che andrà oltre al passaggio della città smart è quello di fare una smart society, ovvero sia sistemi che rendano non intelligente la città ma gli individui stessi intelligenti, quindi servizi per le persone direttamente. L'inizio lo chiederò e inizierà Maurizio Napolitano, in questo caso DFBK, che vi parlerà di cosa? Vi parlerà di mappe, voi siete abituati a pensare alle mappe semplicemente come un posto dove andare a vedere come raggiungere un luogo, ma le mappe sono tutt'altra cosa, le mappe sono rappresentazioni che se usate intelligentemente danno una visione completamente diversa dalla nostra realtà e che ci aiutano. Quindi chiederei a Maurizio intanto di iniziare. Grazie Evano. Il tastino verde mi ha detto. Grazie Evano, ho già anticipato, anche perché mentre parlavi c'era già fuori questa slide qua, che è quella come vedete, oltre alla mappa, cosa ci può portare la data science. E parto con quell'immagine lì, che è un'esperienza che ho avuto ieri presso la Biblioteca Comunale di Trento all'interno di Smart City. Abbiamo fatto un laboratorio per recuperare le antiche mappe digitali e quelle che vedete sono dei libri. Quindi è un atlante mondiale del 1700 che è stato lì reso disponibile e che per un lavoro fatto all'interno del comune è stato trasformato in digitale. E ieri abbiamo fatto questo laboratorio in cui abbiamo cercato di andare oltre. Diventando digitale possiamo raccogliere informazioni che ci sono sopra e quindi restituire delle informazioni, dati che possiamo poi elaborare in maniera ancora più completa. Allora cosa ci possiamo fare? Ad esempio questo qui è un altro progetto che ho fatto sempre in collaborazione con la Biblioteca di Trento. Tempo fa all'interno di questa idea della Biblioteca Comunale di recuperare le fonti antiche hanno recuperato un libro di Cesare Battisti. In questo libro ho trovato una mappa che è quella che vedete quando compare la manina con quel cerchio. E quello che ha fatto è stata una cosa molto banale, è stata quella di prendere, sovrapporre le due mappe e vedere com'era Trento un secolo fa. I messaggi che arrivano da quella mappa sono molto profondi per chi conosce la città. Infatti un sacco di gente mi ha detto ci sto passando delle ore, perché prima di tutto eravamo sotto l'impero strungarico e la mappa è in italiano. E un altro passaggio, ma ci sono tante storie da raccontare, ma la cosa che mi ha subito colpito è che via come via Mazzini e via Garibaldi non sono presenti, ovviamente. Ma tante altre storie che ci potete raccontare e il significato delle mappe, di come ci avvicinano alla società, come ci permettono di comunicare i dati che sono cose complesse, è molto potente. Sempre poi guardando su cose temporali mi sono divertito con i dati del lavaggio strade. Ho fatto questa applicazione in cui voi scegliete sotto la data e vi fanno vedere quali strade saranno lavate. Quindi potete evitare la multa, evitare anche qualche rogna di qualche genere. Però chiaramente questi sono tutti i giochini che ho fatto. La scienza usa le mappe da un sacco di tempo. Questa mappa qua è una delle più famose, che è stato anche uno dei primi, penso il primo momento in cui si è deciso di usare le mappe per cercare di capire a fondo quello che sta accadendo. Joe Snow aveva un medico, c'era un problema di un'epidemia di colera, semplicemente mettendo su mappa dove c'erano le persone ammalate e guardando dove c'era l'acquedotto, di fatto ha scoperto che il problema era nell'acqua, nell'acqua che era inquinata e quindi portava malattia. Pertanto il data scientist è una persona che ha bisogno di tanti skill. Prima Ivano raccontava cos'è un data scientist, ha fatto una grande elenco, dentro di me dico che il data scientist è un supereroe, tant'è che qua se guardate cosa deve sapere fare, il data scientist praticamente c'è bollini grossi da tutte le parti. Quello che mi interessa è sulla data visualization e communication, cioè il modo di rappresentare i dati e saper comunicare. Perché le mappe sono tante potenti, ma spesso ingannano. Questo qua è un tweet di un professore universitario che guardando i risultati delle lezioni ha detto che l'Italia si sta spaccando. D'altronde quella mappa lì non è che sta raccontando balle, è quello che c'è da sopra, sono i risultati delle lezioni rappresentati in un certo modo. E' chiaro che quello che ha rappresentato sono le persone che si rappresentano nel Parlamento, ma il sentimento delle persone, come era, c'è un mio amico che sta a Londra che si faceva questa domanda. Diceva, ma vivo a Londra, che sta succedendo in Italia? Ma sono tanto diverso da quello che sta accadendo? Mi sembra così strano perché parlando con gli amici non è così. Ha preso i dati e li ha presi dati in maniera diversa. E' apparsa questa mappa a PUA e come voi dite lui dice, siamo davvero un paese diviso? Lui arriva alla conclusione che siamo un paese confuso. Non voglio entrare troppo sui temi di politica, eccetera, però spesso una mappa ci può trarre anche un inganno su come la andiamo a interpretare. Tant'è che mi piace quella frase, questa mappa non è di interesse giornalistico, meno male. Perché lui voleva capire un fenomeno. Mi sono divertito anch'io su Trento per andare a vedere un attimino come sono date le lezioni a livello di circoscrizione. E adesso non voglio entrare nei dettagli perché non voglio parlare di politica, però come vedete ci sono dei colori che sono più accesi, i colori meno accesi. Quello che mi piace ad esempio sono quelli un po' più chiari, perché quelli più chiari sono dove la differenza percentuale, dove un partito è arrivato prima di un altro, era veramente minimale. E quindi la percezione che magari stia parlando con le persone in quelle zone lì probabilmente non era così, era tanto diversa e che di poco ha fatto la differenza. E sappiate che c'è stato, e purtroppo c'è tuttora, chi ha iniziato a usare i dati per creare mappe per fregarvi alle elezioni, per vincerle. Questa qui è Gerry Mandering, che è la salamandra di Gerry, che è questo politico, che come vedete 1813-1814 è stato anche vicepresidente degli Stati Uniti, che praticamente lui aveva fatto un'analisi molto semplice dicendo ma io so che in quella zona lì, che sono di meno, sono quelli che mi voteranno, mentre in quella zona lì, che sono di più, non mi voteranno. Allora ha iniziato a ridisegnare tutto, che alla fine sembra le chiazze di una salamandra, per fare in modo che la vittoria andasse verso di lui. Quindi andando a modificare mappe e dati. C'è anche qualcuno che l'ha fatto di recente, di uno Stato, Turchia. Questo invece è un altro modo su cui mi combatto spesso quando si rappresentano i dati. Purtroppo anche questo qui è un giochino che ho fatto, è una visualizzazione, avrebbe più senso renderla dinamica. Comunque vedete, nella parte, mi sa che non la vedete bene per questioni di luce, c'è la mappa dell'Italia con le sue regioni. Dall'altra parte c'è la mappa deformata. Allora lì rappresentano due variabili. Rappresentano la regione e in quel caso lì il numero di figli per donna. Potete immaginare che se io vado a colorare ogni regione, la Val d'Osta, che invece come vedete nella parte colorata è una palla praticamente, non avrebbe lo stesso significato che avrebbe se tengo i confini della Val d'Osta così come sono. Quindi è anche molto importante riuscire a veicolare e capire che messaggio stiamo dando, anche perché adesso le mappe sono molto facili da costruire, però avere dietro la conoscenza di capire che messaggio sto dando è fondamentale. E sapete che è talmente fondamentale che tanto tempo fa, non tanto tempo fa, sono 5-6 anni fa e comunque sempre nel XXI secolo, è successo che Google ha fatto un errore nel disegnare un confine tra Costa Rica e Nicaragua e Nicaragua ha iniziato a invadere Costa Rica. Semplicemente per un errore di Google. Poi dietro in realtà questo articolo qua vi racconta che c'è una storia molto molto più profonda di quello che c'è dietro, perché già c'era la zona contestata eccetera, però nel momento in cui questa multinazionale disegna in maniera sbagliata la mappa mi sento pronto addirittura di partire con una guerra. Quindi pensate a quanto le mappe arrivano nel cuore delle persone e quanto poi possono anche modificare gli atteggiamenti e di quanto è importante il ruolo dei data scientist. Poi c'è da dire che Google dopo questa esperienza ha iniziato a cambiare un po' di cose, ad esempio io vengo da un altro mondo che OpenStreetMap, che è una mappa diciamo alternativa, e Gaza, se andate a vedere su OpenStreetMap c'è tutto, su Google non c'è. Però in quelle zone lì dove ci sono conflitti adesso, Google cosa fa? Guarda da dove chiamate, se siete di quell'area lì vi mostra la mappa quella che non crea conflitto. Così come magari se noi guardiamo la mappa della Cina c'è la mostra scritta con i nostri caratteri, invece in Cina c'è la mostra scritta in cinese insomma. Quindi arrivo alla conclusione, la mappa non è il territorio, non sono l'unica persona che lo dice, come vedete c'è un'illustria persona che molto prima di me l'ha detto, e quello che aggiungo è che il ruolo della data science è fondamentale per far capire questo messaggio, nello usare questo strumento molto potente per fare il vero messaggio a tutti. Concludo qua questi miei contatti se avete bisogno. Allora le domande se siete d'accordo le fari fare tutte alla fine, così avrete il panorama generale di tutta la cosa. Credo che Maurizio abbia posto un specifico esempio di che cosa è la data science. La data science non è solamente modellare dati, ma è anche e soprattutto renderli fruibili alle persone, dove le persone non sono solamente i cittadini, ma sono i decisori, sono chi poi un giorno dovrà prendere delle decisioni e farci delle politiche sopra. E' solo nel momento stesso in cui questi dati diventano qualcosa di oltre, a quel punto là diventano informazione utile per il processo decisionale. E in questo caso Bruno Lebri ci farà vedere altri esempi, in questo caso calati sulla città, come l'utilizzo di determinati tipi di dati, carte di credito e altri ancora, possono essere strumenti predittivi incredibili per leggere ulteriormente la città. Quindi Bruno Lebri, anche lui FBK, poi con FBK abbiamo chiuso. Grazie. Verde. Ok. Ok, verde. No. Come funziona? Ok, perfetto. Allora, quello che vi presenterò sono alcuni lavori che abbiamo fatto con il mio gruppo alla Fondazione Bruno Kessler e il primo che abbiamo fatto un po' di anni fa è stato quello di cercare di capire, essenzialmente utilizzando i dati, quali sono le condizioni che rendono una città e i diversi quartieri di una città più o meno vivibili. Quindi ci siamo posti la domanda come possiamo catturare la vita e la morte delle città. Quello da cui siamo partiti è stata una teoria che è stata in giro per molti anni, che è la teoria di Jane Jacobs, che era un'attivista urbana molto attiva negli anni 50 e 60. Ha scritto questo libro che si chiama La vita e la morte delle grandi città americane, che è diventato un libro molto influente nel modo in cui alcune città, ad esempio Melbourne, Toronto, hanno poi disegnato i loro piani regolatori e l'idea principale di questo libro era che la morte di una città e di una comunità urbana è causata dalla eliminazione dell'attività dei passanti e dal fatto che ci sia un ritmo e una comunità sempre attiva durante le varie ore del giorno. Mentre invece la vita è creata proprio da questa struttura, da questo tessuto urbano vitale in tutti i momenti del giorno. Il libro è stato costruito essenzialmente per cercare di bloccare la distruzione di un quartiere che era Greenwich Village e per salvare questo quartiere dal fatto che si volevano costruire essenzialmente solamente grattacieli. Però non è mai stato testato. Le condizioni che Jane Jacobs ha definito sono essenzialmente quattro. La prima è il tipo di utilizzo che si fa di un territorio, cioè una zona dovrebbe non essere solamente ad uso commerciale o ad uso residenziale, ma ad uso misto, dovrebbe avere più di una funzione, perché in questo modo si evita quello che succede nei downtown, nelle zone finanziarie degli Stati Uniti, cioè che dopo una certa ora non c'è più nessuno in giro e diventano luoghi di crimine poco sicuri. O quello che succede nelle periferie, ad esempio anche nelle periferie italiane. L'altra cosa è che dovrebbero esserci molte intersezioni, nel modo in cui è costruita una strada, una città dal punto di vista morfologico, quindi dei quartieri piccoli e dei blocchi piccoli. La terza è che dovrebbero esserci tipi diversi di edifici presenti all'interno di un'area, cioè bisognerebbe evitare di avere semplicemente grandi aziende, ma avere un tessuto che ha sia grandi aziende, sia piccoli negozi, sia diverse tipologie di persone che vivono lì, quindi di diverse capacità economiche, in modo da avere questo fenomeno della mixité e della diversità. La ultima condizione è che deve essere un luogo dove vive molta gente e molta gente lavora. Quello che noi abbiamo fatto è che abbiamo cercato un modo, a partire dai dati, di trovare delle metriche per quelle quattro condizioni. I dati che abbiamo usato sono stati OpenStreetMap, che è questa versione creata dalla comunità di Google Maps, abbiamo usato Foursquare, abbiamo usato i dati che hanno gli uffici di statistica e abbiamo creato delle formule essenzialmente per testarle e poi predire la quantità di persone che è in giro durante le varie fasce orarie del giorno e durante i diversi giorni della settimana. E questo tipo di informazione l'abbiamo raccolta dagli smartphone e dai cellulari che noi portiamo essenzialmente in giro con noi tutto il tempo, perché dal cellulare si riesce a capire dove una persona si trova con gli eventi tipo le chiamate o i messaggi, gli sms o l'attività su internet, si riesce a localizzare una persona. Abbiamo trovato che la teoria di Jane Jacobs è ancora valida e vale in città diverse, cioè nelle città italiane, e abbiamo capito anche quali caratteristiche contano. Ad esempio, conta la quantità di persone che lavorano, conta la struttura, intesa come questi piccoli quartieri, conta la diversità di edifici. Un secondo lavoro che vi voglio presentare, e anche l'ultimo, è quello invece di guardare come è importante il ruolo delle caratteristiche estetiche di un quartiere, cioè quanto contano in modo in cui un quartiere e degli edifici appaiono. Siamo partiti da una raccolta dati che hanno fatto ad MIT, dove hanno raccolto per diverse città del mondo delle immagini da Google Street View, e hanno chiesto alle persone, alla comunità in giro per il mondo, di etichettare queste immagini, cioè di rispondere a delle domande del tipo qual è dei due luoghi che sembra più sicuro, quello sulla sinistra o quello sulla destra. Anche in questo caso siamo partiti da un insieme di teorie, ad esempio una delle teorie è stata quella delle finestre rotte, che è stata implementata in parte a New York, un po' di anni fa, cioè che un posto che è mal gestito tendenzialmente porta anche a maggior crimine in quel luogo. E un'altra teoria è sempre quella di Jane Jacobs e di Oscar Newman, dove ad esempio ci sono alcune caratteristiche urbane, ad esempio il tipo di edifici, edifici che hanno finestre e che guardano sulle strade, che contano molto per ridurre il crimine e creare una maggiore comunità, perché c'è questo effetto della sorveglianza naturale fatta dalla comunità. Anche in questo caso abbiamo usato i nuovi dati che abbiamo a disposizione, quindi non abbiamo usato questionari, non abbiamo usato i modelli classici, ma abbiamo usato le immagini e le immagini siamo riusciti per due città italiane, per ogni strada, ad assegnare un'etichetta di sicurezza percepita, l'abbiamo fatto attraverso degli algoritmi di visione artificiale. E poi da queste etichette abbiamo cercato di predire che tipo di comportamento c'è di nuovo in quella zona. E soprattutto in questo caso avevamo ancora dei dati più interessanti, non avevamo solo la quantità di persone in un'area, ma avevamo la quantità di persone e anche il tipo di persone, cioè quante donne, quanti giovani, quanti anziani erano in giro catturati dai telefoni cellulari. E quello che abbiamo scoperto, abbiamo scoperto che pur controllando la quantità di gente che vive in un luogo o cose di questo genere, siamo riusciti a capire con la percezione di sicurezza, la percezione di sicurezza ha un'influenza su chi c'è in giro, cioè luoghi che sono percepiti come meno sicuri, sono luoghi dove ci sono più giovani e invece ci sono meno anziani e meno donne. Una ultima cosa che abbiamo fatto è capire quali elementi rendono sicuro un luogo. Quindi con degli strumenti totalmente automatici, con degli algoritmi di visione artificiale, abbiamo oscurato parti delle immagini, abbiamo visto come cambiava la predizione e abbiamo capito ad esempio che le teorie di Jane Jacobs avevano molto senso, cioè gli edifici che hanno delle finestre che danno sulle strade hanno un ruolo nel ridurre la percezione di insicurezza. L'ultima cosa che stiamo facendo adesso, questa è l'ultima slide, stiamo cercando di portare queste cose nella realtà. Quindi ad esempio stiamo utilizzando questo tipo di informazioni, come una città è fatta, che tipo di caratteristiche ha, il tipo di persone che ci sono in giro, quindi come le persone si muovono tra i diversi quartieri e più le informazioni che invece gli scienziati sociali hanno usato per lungo termine, quindi il livello di povertà, il livello di disoccupazione, tutte queste informazioni insieme per capire e predire il livello di crimine. E lo stiamo facendo scientificamente sia per il governo colombiano lo stiamo cercando di applicare per sei città in Colombia anche per disegnare poi delle policy per migliorare la realtà urbana di queste città. Questo è il mio riferimento, la mia mail. Grazie. Grazie mille. Voi vi chiederete questi sono informatici. Sbagliato. Maurizio Napolitano che è un disgraziato sta laureando in sociologia. Bruno Lepri indovinate è laureato in filosofia. Quindi di informatici qua non ce ne sono. ma non solo. La data science ha la caratteristica di rompere i confini disciplinari e di far collaborare gente che proviene da mondi diversi. Adesso che continuerà a farvi vedere cose sulla dimensione urbana Matteo Colleoni dell'Università di Milano Bicocca lui è un sociologo vero e proprio sociologo urbano che però sfrutta i dati e vi farò vedere come i dati possono essere utili per implementare politiche. Sì, grazie. Mi vorrò focalizzare sull'emona della città accessibile. Sopra è questo qui puntato. Quindi va girato così. Stai già andando. Credo che sei già andato avanti. Questo qui sotto. Bene, il tema della città accessibile è un tema che viene sempre più associato all'argomento più generale della mobilità come sapete. Ormai a livello internazionale la pianificazione a livello dei mobility plans europea mette il tema dell'accessibilità collegato a quello della mobilità. La mobilità è lo strumento per poter avere una città accessibile in cui ovvero i cittadini possano accedere ai servizi alle facilities e pianificare la mobilità concentrandosi sulle persone porta in definitiva a migliorare le condizioni di mobilità dei cittadini. Il piano di urbano per la mobilità sostenibile di Milano torna su questo tema della sustainable mobility per aumentare l'accessibilità all'interno delle aree più vaste quindi non soltanto della città ma delle aree più vaste in cui la città si colloca. ho semplicemente selezionato cinque piani urbani per la mobilità sostenibile di cinque città la città di Sheffield in Inghilterra che mette il tema dell'accessibilità come priorità dei propri piani la città di Coprivnica in Croazia che ha un progetto per l'accessibilità attiva quindi legato alla mobilità fisica la città di Gaunt in Belgio che ha un progetto di miglioramento dell'accessibilità di rendere confortibili le aree internamente ad una zona ferroviaria molto importante il piano di mobilità di Budapest in questo caso perché si mette in evidenza che l'accessibilità ha un rapporto con la mobilità ma non sono uguali ovvero la mobilità serve per accedere e questo è importante nel Data Scientist perché consente come vedremo nei casi che vi mostrerò tra poco di mettere in evidenza come il dato della mobilità deve essere usato integrato con altri dati per poter vedere se c'è effettivamente accessibilità ai servizi di una città cioè insomma la mobilità come si mette in evidenza nel piano di Budapest è lo strumento e l'accessibilità è il fine il piano dell'accessibilità di quartiere di Monaco di Baviera fa ancora di più e propone dei metodi per rilevare dal punto di vista spazio-temporale l'accessibilità insomma è chiaro che quando parliamo di accessibilità mettiamo in conto tre livelli e su questi tre livelli vanno studiati e vanno riaccolti utilizzati dei dati il livello dei cittadini e quali sono le loro caratteristiche oggettive e soggettive e questo è importante conoscere le caratteristiche dei nostri cittadini la seconda caratteristica è la mobilità ovvero come queste persone si spostano con quale modo ma soprattutto in quali tempi e attraverso quali distanze ed infine i posti i luoghi cioè quali sono i luoghi ai quali si accede attraverso gli strumenti di mobilità da questo punto di vista quindi l'accessibilità ci consente di studiare la mobilità delle persone in funzione della soddisfazione dei propri bisogni vi presento quattro casi studio in questi quattro studio vediamo come si possono prendere dei dati di fonte diversa per poter studiare l'accessibilità sono in buona parte centrati sulla città di Milano cominciamo col primo l'accessibilità delle risorse alimentari delle persone anziane perché sulle persone anziane perché sono la componente maggioritaria delle nostre popolazioni soprattutto in città come Milano si parla sempre più a Milano di foodability non soltanto a Milano ma a livello internazionale cos'è foodability è la possibilità di poter accedere ai negozi ai luoghi di consumo e di potervi accedere con le proprie risorse con la propria capacità in quanto persona anziana di muovermi e con i mezzi che mi vengono dati vedrete che l'accessibilità si articola in tante sfere accessibilità spaziale pertinenza la competenza la disponibilità l'accessibilità economica come fare a studiare l'accessibilità usando i dati tanti dati diversi da integrare beh sicuramente i dati gli open data del comune di Milano che consentono di fare mappe sulla densità di concentrazione delle risorse alimentari non è soltanto il negozio ma è un elenco di risorse alimentari che possono essere anche mense oppure i mercati il secondo passaggio è quello di vederlo dettagliato per i tipi di risorse alimentari medie strutture mercati su aree pubbliche esercizi di vicinato grandi strutture di vendita però non basta non basta perché dobbiamo sapere dove sono questi e dove sono gli anziani e qui occorre incrociare i due tipi di dati una mappa di densità semplicemente del tasso di anzianità e poi una mappa di camminabilità qui abbiamo come fonte open street map che sono già stati citati prima in questo caso il tentativo è quello di andare a vedere qual è il livello di camminabilità che c'è a Milano tenendo conto delle informazioni che dà sia open street map ma anche delle informazioni che sono basate sulla concentrazione sulla densità dei servizi perché più un luogo ha densi servizi più è camminabile e a questo punto incrociamo le informazioni per poter vedere due aspetti che rapporto c'è tra i luoghi in cui le persone abitano e la densità dei servizi alimentari è proprio vero che tutte le aree di Milano sono ben servite se noi incrociamo questi due tipi di dati vediamo che non è vero ci sono delle aree ricerchiate in cui abbiamo una certa concentrazione di anziani ma dall'altra parte abbiamo una povertà di offerta alimentare incrociando un dato del comune sull'offerta alimentare e il dato sulla presenza degli anziani e incrociandolo dal punto di vista della possibilità di accedere a piedi che è il modo più utilizzato degli anziani in questi servizi si mette in evidenza una serie di problemi che poi abbiamo schematizzato per individuare quali interventi possiamo fare migliorare l'offerta di servizi alimentari in zone deficitarie oppure supportare i casi più esposti al rischio di mobilità con degli interventi di supporto economico oppure avviare i servizi on demand cioè dei servizi di accompagnamento delle persone anziane verso le aree in cui possono accedere i servizi alimentari essendo abitando in zone più marginali secondo esempio che segue la stessa logica qual è il livello di accessibilità al trasporto pubblico beh possiamo fare una mappa dell'accessibilità al trasporto pubblico tenendo conto della frequenza delle fermate e della localizzazione di queste fermate sulla base degli open data ancora del comune di Milano e abbiamo la prima mappa che è interessante ci dice abbastanza atteso dove c'è la concentrazione maggiore di fermate e dove c'è la maggiore frequenza di queste fermate evidentemente nel centro di Milano però il data scientist ci consente di incrociare il dato cioè di usare questo dato mapparlo e di metterlo in rapporto ad altri tipi di dati questa è la stessa mappa però calcolata non sul comune di Milano ma sull'intera città metropolitana ovvero sulla provincia che ci danno immagini di questa natura il secondo passaggio qui non è andare a vedere dove abitano le persone ma qual è la condizione socio-economica delle persone che è una cosa diversa perché è chiaro che il trasporto pubblico deve essere messo in relazione alle caratteristiche socio-economiche delle persone e le caratteristiche socio-economiche sono il loro livello di status ci sono stati scritti migliaia di libri su come si rileva lo status di una persona e le soluzioni operative sono molto complesse però noi abbiamo usato in questo caso dati di censimento integrati con dati del comune di Milano mappati a livello di sezione di censimento è una soluzione operativa e così facendo abbiamo una mappa dell'evoluzione socio-economica di Milano in rosso sono i ricchi in blu sono i poveri Milano è una città il cui centro diventa sempre più espanso sempre più ricco e le periferie però si mantengono ancora più povere per quanto di dimensioni più contenute rispetto al passato la stessa cosa l'abbiamo applicata a livello della provincia di Milano questa è ancora la mappa dell'offerta di trasporto pubblico questa invece è la mappa che è dell'indice di status calcolato sulla provincia di Milano abbiamo incrociato le due mappe ed è risultato che ci sono delle zone verdi in cui c'è sovrapposizione dove c'è alta offerta di trasporto pubblico e sotto si vedono i colori in rosso abbiamo lo status elevato e in blu abbiamo lo status molto basso abbiamo delle zone di Milano che si caratterizzano per una presenza di status basso e un'assenza di offerta di trasporto pubblico da questo punto di vista allora cosa possiamo dire un po' come nel primo caso ovvero che anche a Milano che è una situazione eccellente dal punto di vista dell'offerta di trasporto pubblico ci sono delle aree caratterizzate in realtà da una mancanza di trasporto pubblico soprattutto e tra l'altro paradossalmente dove si concentrano o come nel caso precedentemente gli anziani oppure come in questo caso dove si concentrano soggetti di status socio economico più basso evidentemente è lì che si deve intervenire per andare a contenere quei problemi di immobilità che portano a bassa accessibilità e anche qui si può intervenire in diverso modo si può migliorare l'offerta del TPL nelle zone deficitarie o si può supportare i casi più sposti a rischio di immobilità o si può fare ancora servizi di on demand di supporto un terzo caso è più nostro e riguarda invece noi universitari e cioè i flussi di mobilità delle persone che vengono all'università questi sono i flussi di mobilità di commuting i flussi di mobilità per andare a studiare e lavorare a Milano sulla base delle indagini di censimento del 2011 cioè sappiamo da dove si parte dove si arriva ed una mappa di densità di flusso questa che invece segue se vuole un attimo per caricarla è una mappa di densità del commuting degli studenti per andare all'università fatta secondo un'indagine del 2016 dal coordinamento delle università italiane sulla base di 70.000 casi e di 37 università questo è il dettaglio dei flussi degli spostamenti degli studenti che frequentano le università milanesi oppure Bologna Parma e così di seguito vediamo il dettaglio di Milano il dettaglio di Milano è interessante perché in questo caso ci consente di stabilire da dove vengono in percentuale gli studenti che studiano nelle università milanesi e il 25% viene dalla città di Milano l'altro 25% viene da questa area più blu il 25% da questo e il 25% da quello successivo un 5% si disperde e non è compreso nella mappa cosa risulta da questo? risulta quindi che il 75% degli studenti che vanno a studiare nelle università milanesi viene da fuori dalla città di Milano allora secondo passaggio è andare a vedere delle mappe isocroniche a vedere quanto ci mettono in tempo per andare a muoversi verso l'università e facciamo mappe isocroniche e in arancione in rosso abbiamo gli studenti che ci mettono più di 60 minuti e in rosso più di 90 minuti questo vuol dire che noi abbiamo una quota molto consistente circa del 70% di studenti 60-70% che per venire a studiare nelle università milanesi ci mette almeno un'ora almeno un'ora le conseguenze di questo dal punto di vista dell'accessibilità sono diverse il 75% degli studenti dell'università arriva da fuori Milano l'80% arriva con un mezzo pubblico perché l'uso del mezzo pubblico a Milano da parte degli studenti sfiora l'80% è altissimo e quindi è un ottimo dato ma dall'altra parte usa circa una quota di tempo molto consistente col mezzo pubblico per accedere all'università le ricadute in termini di inaccessibilità sono evidenti nel senso che sulla base di questo studio il risultato che gli studenti che ci mettono tre ore un'ora e mezza per arrivare un'ora e mezza per tornare per andare all'università tendono a frequentare poco l'università persino con soluzioni tendono a usare più l'automobile tendono a frequentare di meno l'università e la minore frequenza universitaria ha una conseguenza di un peggioro rendimento scolastico e provato da tutti gli studi soluzioni beh soluzioni sono diverse convenzioni con il trasporto pubblico locale per tutti soluzione molto difficile il trasporto pubblico locale non vuole perché è troppo costoso il treno in questo caso seconda soluzione supportare gli studenti che trascorrono più di due ore per accedere all'università e può essere una soluzione intelligente non convenzioni e distribuzioni di sconti a tutti sarebbe troppo costoso ma soprattutto gli studenti che vengono da lontano per incentivarli a frequentare di più l'università terzo tipo di politica difficilissima in Italia aumentare l'offerta residenziale per evitare che gli studenti facciano pendolarismo anche in questo caso il dato spaziale e il dato temporale ci consentono di dire tanto sul tema dell'accessibilità l'ultimo esempio un esempio che cambia invece scala abbiamo sperimentato in occasione dell'ultimo fuorisalone che è un'iniziativa di Milano che viene fatta in occasione della fiera del mobile l'uso del GPS di un programmino per rilevare la mobilità e l'uso dello spazio da parte degli utenti di questa iniziativa abbiamo provvisto 180 180 persone che si sono iscritte al fuorisalone e con un programma che ha consentito di telerilevarne la mobilità e di rappresentarne la mobilità a livello spaziale questo è il profilo di movimento di una persona questa è la densità dei flussi in una zona attorno alla zona di via Tortona dove veniva svolto il fuorisalone e questo è un dettaglio di questa zona e questo invece è consentito di mettere in evidenza le zone in rosso di maggiore permanenza da parte degli utenti di questo evento in questa zona di Milano poi abbiamo fatto un secondo passaggio che era quello di vedere le zone a maggiore permanenza rispetto alle offerte del fuorisalone in arancione e in viola ci sono i padiglioni che offrivano iniziative gli orari molto importante per poter telerilevare la mobilità ma anche gli orari delle presenze dei clienti di questo evento e infine la direzione degli spostamenti la direzione consente di capire se i flussi si muovevano in una certa direzione oppure in un'altra direzione abbiamo fatto un rapporto questo invece con i colori diversi sono la velocità della camminata in questo modo è stato possibile fare un report che abbiamo restituito in questo caso all'amministrazione comunale di Milano affinché per il prossimo evento del fuorisalone si tenga conto meglio dell'organizzazione degli spazi rispetto ai flussi che ci sono stati e rispetto gli otto spot che ci sono bene in fondo e per concludere posso dire due cose in conclusione quando parliamo di accessibilità parliamo di tre cose parliamo di soggetti che si muovono nello spazio verso certi servizi la mobilità è una componente degli studi di accessibilità non basta studiare la mobilità per studiare l'accessibilità bisogna incrociare i dati di fonti diverse di soggetti diversi molto spesso questa cosa non viene fatta o perché mancano i dati o perché è difficile integrare questi dati oppure perché manca un quadro analitico che ne consenta l'integrazione cioè non si capisce che tipo di variabile incrociare con quale altro tipo di variabile cioè posso dire io posso mappare la concentrazione dei servizi e però non so quale variabile interagisce con questo però io non so quale variabile perché c'è un difetto di interpretazione e allora quello che suggeriamo di fare è questo l'analisi di accessibilità consente di studiare l'interazione tra i fenomeni e studiando l'interazione tra i fenomeni dobbiamo valorizzare il più possibile i dati che ci vengono forniti dalle fonti ufficiali io in questa rassegna vi ho mostrato dati di fonti ufficiali dati della censimento della popolazione dell'abitazione dati di fonti amministrativa dati comunali open dati dati forniti dai servizi e dati forniti dagli utenti direttamente usando una parte della città in occasione di certi eventi un'integrazione tra i dati applicato il tema dell'accessibilità che si colloca a pieno titolo nello studio scientifico dei dati grazie grazie come vedete stiamo andando sempre più a definire che cos'è il data scientist in quest'ultima cosa un altro elemento che emerge qual è? è che il dato non è unico non c'è un'unica fonte ma è la capacità di integrare fonti diverse ma integrarle come? con intelligenza non è prendere dati e metterli assieme ma è prendere dati che abbiano significato per quello che noi vogliamo conoscere e tra questi dati ce n'è uno particolare che sono i dati da sensori sono i dati che provengono da l'ambiente circostante che vengono sistematicamente prodotti i nostri cellulari in questo momento stanno producendo dati ogni secondo le telecamere che ci sono qua in piazza stanno producendo dati i rilevatori di temperatura stanno producendo dati eppure questi dati qua possono essere servire per sapere che temperatura c'è o per fare altre cose in questo caso quello che abbiamo è quello che viene chiamato l'internet of think l'internet delle cose ovvero sia sistemi automatici sia rilevatori sensori che producono qualcosa e che solo la capacità di utilizzarli non solamente per calcolarne il funzionamento ma anche per altre cose diventa fondamentale in questo caso Dario Pretri che è anche poi il direttore del dipartimento di ingegneria quindi lui è un vero tecnico nel senso della cosa ci parlerà esattamente di queste cose anche se inizierà non parlando di cose tecniche buongiorno a tutti ringrazio Ivano per aver organizzato questo seminario e ho sentito interessantissime presentazioni appunto io sono sembra qui l'unico tecnico che si occupa di queste cose in realtà userò anche io un altro cappello soprattutto qui non vedrete molto di tecnico anzi direi magari partiamo da qualcosa di antropologico vi parlerò come dice il sottotitolo di Big Data di cui già si è parlato e cosa sono e con riferimento a quella che si chiama Industria 4.0 la nuova rivoluzione industriale che in realtà non riguarda solo l'industria ma vedremo riguarda tutta la società partendo da una considerazione abbiamo visto alcuni esempi importanti di come attualmente i dati permanano le nostre vite e ci rendono più trasparenti con poi ovviamente notevoli problemi di privacy e di tante altre problematiche ma arriviamo a questo perché c'è stata un'evoluzione tecnologica e che ruolo ha la tecnologia nella nostra società oggi ma che ruolo ha avuto e ancora nell'evoluzione dell'uomo e che cos'è la tecnologia ecco intanto creiamo questo la tecnologia intendiamo metodi strumenti mezzi per risolvere problemi della vita quotidiana quindi questo è l'obiettivo della tecnologia e quando possiamo vediamo se riesco dove può essere pensata nata la prima tecnologia i primi metodi e strumenti che ha usato l'uomo per risolvere i problemi della sua vita quotidiana uno di questi primi elementi può essere la capacità di accendere e controllare e gestire il fuoco non solo per scaldarsi ma anche per cucinare ad esempio e c'è una teoria non del tutto condivisa ma abbastanza solida che ci dice che proprio l'evoluzione degli esseri umani è partita da quando gli uomini hanno cominciato ad usare il fuoco per cucinare in questo modo hanno potuto assimilare meglio le calorie dei cibi e il cervello ha potuto svilupparsi sono sviluppate aree del cervello che hanno permesso di parlare di dialogare e con il linguaggio si è poi compreso molte altre cose si è compreso la ciclicità delle stagioni con la ciclicità delle stagioni si è passate dalla caccia all'agricoltura con l'agricoltura all'urbanizzazione i primi villaggi con i primi villaggi anche le specializzazioni dell'ora cioè l'artigianato e così via e via 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 arriviamo fino diciamo quasi ai giorni nostri con le rivoluzioni industriali dalla prima seconda terza rivoluzione industriale qualche decennio fa fino alla quarta rivoluzioni industriali basate su cose qui c'è stato un cambionetto proprio con una tecnologia basata sulla tecnologia ma soprattutto sono tecnologie basate sulla scienza quindi sullo studio anche di come funziona il mondo come funzionano le cose e grosso modo che è iniziato diciamo un'essenza moderna intorno al 1500 1600 e perché allora e non 500 anni dopo 500 anni prima perché era nato qualcos'altro prima che è poi prodotto anche l'evoluzione scientifica il rinascimento qui l'uomo è centrale si diceva prima quanto è centrale l'uomo tecnologia un rinascimento un modo nuovo di vedere il mondo che ha portato anche alla nascita della scienza che ha portato poi l'uso della scienza per tutte le rivoluzioni industriali che arrivano a soluzioni tipo quelle di di cui se ne è parlato oggi scusate quindi con modifiche strutturali della società sia della singola persona ma anche della natura della famiglia del lavoro del ruolo dello Stato del sviluppo demografico che abbiamo avuto in questi in questi ultimi due secoli con impatto solo quindi la tecnologia impatto non solo su che cosa riusciamo a fare e come riusciamo a farlo ma anche soprattutto su chi siamo allora a parte questo escursus che da quasi due milioni anni fa vediamo gli ultimi anni quelli che sostanzialmente molti di noi qui presenti hanno vissuto nel 70 sono apparsi i primi computer nell'80 i primi personal computer sembrava una cosa incredibile poter avere un computer tutto per se stessi quando si doveva lavorare in 10-20 essenziati attorno a un unico computer poi l'internet una persona tanti computer addirittura poi con la telefonia cellulare il collegamento mobile e poi gli smartphone grosso modo negli ultimi dieci anni cioè i computer in tasca questa è l'evoluzione tecnologica che abbiamo avuto nella vita nell'arco di una vita lavorativa di una persona e queste cose stanno sempre più accelerando diciamo 30 anni qui circa se guardiamo la potenza di un tablet attuale è circa potenza di elaborazione è circa quella di 5.000 computer da tavolo di 30 anni fa 30-35 anni fa la macchina più veloce circa 30 anni fa ce n'erano a quell'epoca pochissime in Italia erano solo sui grandi centri scientifici già nel 2010 i nostri ragazzi ce l'avevano in tasca con l'iPhone e 5 anni dopo un solo Apple Watch valeva 2 iPhone questo per capire qual è la velocità di evoluzione della tecnologia che ci permette di fare queste cose e questo è un risultato che è una comparazione che ha fatto il team di Google qualche anno fa la stessa potenza di calcolo che noi usiamo per fare una ricerca su Google è pari alla tutta la potenza di calcolo che hanno usato gli Stati Uniti per l'intero programma Apollo per portare l'uomo sulla luna non solo per l'Apollo 11 per tutto il programma Apollo fino all'Apollo 17 tanto per dire e queste sono cose cambiate questa è una cinquantina d'anni bene quindi siamo a questa quarta rivoluzione industriale che cosa quale sono le caratteristiche principali di questa quarta rivoluzione industriale ricordiamo la prima era sul tessile la seconda su manufatturiero eccetera qui diciamo che le tecnologie principali sono non tanto nuove tecnologie ma la convergenza di tecnologie l'integrazione di tecnologie finalizzate a realizzare quelli che vengono chiamati dei tecnici i sistemi cyber fisici cioè i cyber physical system che sono sostanzialmente un ponte tra il mondo reale e il mondo cibernetico il mondo informazione il mondo digitale e c'è sempre più un contatto stretto tra il mondo digitale e il mondo reale tanto è vero che qualche volta si può con la realtà virtuale eccetera si comincia qualche volta a non distinguere bene la differenza tra i due ecco questo ma è questa appunto quarta rivoluzione industriale cosa riguarda anzi queste sono le motivazioni che ci stanno spingendo e cosa riguarda praticamente non solo l'industria ma tutto i servizi pubblica amministrazione intera società tanto per darvi un'idea dell'importanza guardate quella è una breve panoramica di quelli che sono i progetti nazionali a livello europeo per sostenere questa evoluzione sociale e a livello mondiale vedete quanti paesi ci stanno già lavorando il primo nel 2011 è stata la Germania ma poi in tempi molto brevi è partito tutto avrete sentito anche l'Italia stiamo stati uno degli ultimi un paio di anni fa ormai ed ecco che veniamo all'aspetto diciamo più hardware dei dati cioè questi dati come li preleviamo attraverso quella che si è accennato prima le cosette Internet of Things o Internet delle cose l'Internet che negli anni 90 si è sviluppata soprattutto sui dati poi sui servizi poi sulle persone i social adesso è sulle cose cioè sono le singole cose che dialogano tra loro e saranno soprattutto nell'ambito industriale e manufatturiero i processi le macchine e si sta andando proprio in quell'ambito verso un Internet dell'automazione cioè messaggi tra informazioni di scambio tra cose ma anche in tempo reale in tempi molto brevi la stima economica è di vedete in pochi anni di migliaia di miliardi di valore economico di queste di queste tecnologie e si stima che fra pochi anni ci saranno circa mille di questi dispositivi per ogni persona al mondo quindi saremo completamente immersi attraverso queste Internet delle cose sparse attorno a noi che costituiscono quindi un grande sistema cyber fisico e saremo costantemente immersi anche nello spazio cibernetico non solo in quello in quello reale in particolare nell'industria giusto per dare anche un'idea su questo le macchine i processi i prodotti avranno l'intelligenza per poter prendere decisioni indipendenti in tempo reale e anche che dipendano dall'ambiente in cui si trovano potranno autoconfigurarsi e reagire per i cambiamenti ambientali potranno adattarsi a nuove situazioni e tutto questo è per migliorare anche l'efficienza e la sostenibilità che sono tra i motori principali adesso delle evoluzioni delle tecnologie in occidente e si parla anche addirittura di macchine sociali quindi non solo le persone in rete che si scambiano conoscenze e informazioni non sempre sappiamo bene purtroppo con risultati positivi ma con le macchine si scambieranno informazioni invece potremmo definire noi che siano per risultati per ottenere un miglioramento e un'ottimizzazione e quella che si chiama condividere quella che si chiama l'esperienza dello swarm del gruppo big data come risultato dei dati ottenuti attraverso questa internet delle cose che ha varie caratteristiche che sono importanti quindi importanti soprattutto dal punto di vista tecnologico il grande ammontare i dati la varietà di dati la velocità con cui arrivano la diversità di questi dati che saranno sempre più accessibili e che ci permetteranno di prendere sempre più decisioni informate sia ai singole persone sia alle organizzazioni questo è il motore ovviamente per avere molti dati è una di quelle principali tecnologie che questo è il big data e l'internet che si prevede che cambieranno il mondo a breve facendo attenzione come tutte le tecnologie da quando l'uomo ha imparato a gestire il fuoco il fuoco l'ha usato in modo positivo o negativo la tecnologia ha sempre questa doppia faccia sempre dai big data importante da questa mole di dati è riuscire però a ricavare l'informazione che ci serve a noi ecco gli esempi che è stato fatto prima qui vengono usati algoritmi intelligenza artificiale e qui in generale forme di elaborazione che si chiamano analytics per arrivare a quelli che si chiamano gli smart data quindi dati che sono però utili quindi validi per supportare la mia decisione e anche che siano affidabili qualcuno paragona questa estrazione di informazione al raffinare petrolio per ottenere la benzina e qui concludo concludo dopo avervi cercato di dare una panoramica dell'importanza delle tecnologie in particolare delle ultime tecnologie basate su internal things with data pensando che questo panorama può anche creare dei timori sicuramente è questo però la storia è tutta l'uomo è tutta l'evoluzione umana come ho cercato di mostrarvi da quasi due milioni di anni questa di cercare di usare la tecnologia per evolvere e migliorare sempre le nostre condizioni di vita possiamo usare in modo sbagliato vogliamo sperare che possiamo usarle in modo giusto e per la conclusione prendo una frase che è stata detta da Klaus Schwab che è il fondatore del World Economic Forum in uno degli ultimi World Economic Forum appunto questa nuova tecnologia potrebbe anche essere l'occasione ci dà la potenzialità di creare un nuovo rinascimento che non sia poi regionale come abbiamo avuto qui in Italia ma addirittura a livello globale e una globalizzazione non dell'economia ma della civilizzazione grazie bene ora chiederei intanto ai relatori gentilmente di sedersi in queste quattro sedie che così diventerà più semplice l'interazione con voi adesso apriamo le domande al pubblico l'ultima cosa che vi dico dal data science ce ne sono molte altre è quella che ci sono due cose uno dati non sono solamente numeri ma dati sono anche immagini parole testi tutto quanto questo è informazione e la capacità del data science alla fine non è solo di distillare ma di raccontare una storia come quella che ha fatto la nostra quella che non so come ti chiami Sara come ha fatto Sara in questa ora lei non ha fatto altro che prendere parole catturare concetti e raccontare una storia di fatto ha fatto il data scientist quindi lo so che come si dice artisticamente non saremo mai come te ma comunque ecco quindi come si dice tutto torna tutto è perfetto adesso chiederei di aprire il dibattito e lasciare a voi la parola a fare domande e cose dal vostro punto di vista da quello che sapete quant'è la consapevolezza del tessuto economico diciamo locale e nazionale sull'esigenza sul bisogno di avere dei data science nell'azienda nell'industria rispondo io no è fortissima effettivamente ci sono pochissime persone ancora con le competenze di cui si diceva perché serve appunto competenze informatiche competenze statistiche matematiche direi nell'industria servono anche competenze su come acquisissi dati sulla qualità del dato non è il numero solo che ti dà l'informazione ma è tutto anche la conoscenza del contesto in cui viene prelevato eccetera e quindi questo c'è una fortissima fortissima richiesta ho letto credo un articolo poco tempo fa che diceva che molti data science nonostante dovrebbe essere il lavoro più sexy del mondo stanno lasciando alcune grandi aziende una delle cose che secondo me diventerà interessante e importante da vedere nel futuro è che al momento c'è una grandissima richiesta di data scientist ma non è ancora chiaro quanto contino realmente nelle decisioni aziendali e credo che questo sarebbe interessante capire cioè se le decisioni aziendali saranno veramente più data driven piuttosto che basate su gut feeling questo cambierà e cambierà anche il rapporto di forza che c'è tra il vecchio stile di management e quello che potrebbe essere il nuovo al momento quello che sta succedendo è che fa molto sexy avere un data scientist ma molto meno ascoltarlo speriamo che sia anche ascoltarlo qualcosa di importante di fatto quello che dovremmo fare non è solamente formare il data science ma formare anche il management che utilizzerà il data science perché spesso poi questi vanno a finire in qualche ufficio di amministrativo a fare tabelline Excel che non è esattamente quello che dovrebbe essere la figura diciamo che le ultime stive davano solamente per il 2020 una cosa come un milione e mezzo di posti di lavoro come data science in giro per il mondo e circa 700.000 solamente in Europa quindi penso che rispondo soltanto la sua domanda si riferiva alle aziende private esclusivamente o in generale all'istituzione allora sulle aziende private non ho una risposta io perché non me ne occupo conosco di più il mondo pubblico il mondo delle istituzioni pubbliche a diverso livello e lì è una scommessa in realtà secondo me perché noi abbiamo istituzioni pubbliche e private che si trovano di fronte a uno stesso oggetto tra volte il dato finalmente ci ha accumulati e noi che per esempio lo avremmo nelle istituzioni accademiche ci troviamo a interluquire molto di più con linguaggi molto più in comune con lo stesso oggetto il tipo di dato il modo in cui lo analizziamo con il mondo del privato quindi da una parte il dato è interessante il data science è molto interessante perché ci ha consentito di interluquire tra il mondo pubblico e il mondo privato dall'altra parte nel mondo pubblico in realtà però è una scommessa lo diceva adesso Ivano quando parlava di come tutto questo verrà poi accolto dal management perché comunque la gestione e il management pubblico e privato anche in buona parte del management è pubblico più che privato perché molto del privato in realtà viene gestito dal pubblico all'interno di un'istituzione e di un sistema pubblico e democratico e conseguentemente sarà interessante vedere come tutto questo settore che oggi abbiamo un po' sintetizzato verrà accolto dalle amministrazioni pubbliche se sapranno innanzitutto fare concorsi prima questione per avere all'interno del proprio organico delle persone che abbiano questo tipo di competenza e lì dovremo risolvere il problema di riaprire i concorsi pubblici che sono ancora abbastanza chiusi se veramente le istituzioni pubbliche apriranno posti in questa direzione e poi come questi soggetti potranno essere vedere valorizzato la propria formazione delle proprie competenze all'interno di questo tipo di strutture per cui la richiesta sicuramente c'è il tipo di risultato non si sa ancora però dal mio punto di vista io invece voglio aggiungere una nota un po' comica mettiamola così ultimamente sto ricevendo un sacco di richieste da parte di aziende di formazione che mi chiedono di fare formazione poi usano queste parole che dopo quando sono lì davanti le distruggo mi fai un corso su big data mi fai un corso su data science queste cose qua e l'ultima che ho ricevuto è stata abbiamo bisogno che vai in un posto adesso vi raccontare tre ore di strada da qua per parlare tre quarti d'ora con persone che lavorano nel campo dell'edilizia sono micro aziende sono una o due persone quindi tu prova a pensare adesso dopo non sono riuscito per questioni di tempo come posso immaginare raccontare data science a queste persone per le esigenze che hanno non dico che non sono persone competenti è proprio calare sulle esigenze che hanno e quindi come poi si confondono le parole no? perché come diceva appunto Evano alla fine parliamo di data science io ho un atleta che sta lavorando come data scientist in un'azienda che fa software bancario lei ha un dottorato in neuroscienze sta guardando tabella Excel e gli dicono se è una data scientist poi mi trovo appunto queste altre situazioni che mi chiedono come si fa a fare le cose e poi dopo scopri che alla fine e qua mi aggancio soprattutto a quello che è stato detto prima c'è bisogno prima di fare tanto ordine tanto ordine e pulizia io ho lavorato anche molto lavoro molto con gli open data quando dico lavoro con gli open data non tanto nel usarli ma nel farli aprire e uno dei grossi scontri è fare capire che quello che sta facendo un servizio deve comunicare con l'altro servizio in quella mappa che ti ho visto del lavaggio delle strade mi sono scontrato con delle realtà molto forti su come sta parlando come tratta il dato l'azienda che gestisce che fa le pulizie come tratta il dato l'ufficio del comune che si occupa di fare la cartografia come tratta il dato l'ufficio che fa la comunicazione e metter insieme tutto questo macello che da punto di vista per un data scientist insomma anche per te è abbastanza facile eccetera per persone che invece poi devono dialogare trovare il messaggio corretto eccetera serve lavorare molto quindi su quello che è il concetto della cultura del dato quindi sicuramente c'è la parola data scientist che piace alle aziende che piace anche alle piccole aziende c'è necessità però di fare molto ordine su questo perché siamo davanti in un passaggio in cui abbiamo questi dati e dobbiamo capire come gestirli tabelle pdf per tanta gente sono ancora dati bene grazie Giuseppe grazie relatori volevo chiedervi da un punto di vista della formazione di questa figura quali sono secondo voi le sfide principali gli ostacoli e anche le opportunità nel formare persone che possano diventare data scientist grazie non tocca a me partire perché ho il microfono ma come ti ho detto mi è capitato spesso questa parte qua adesso io sono molto contento che parta anche questo corso in data science e anche come è nato il corso è interessante perché è interdisciplinare e io penso sempre chiaramente venendo da questo mondo dell'open data poi in realtà giustamente Evano ricorda cosa ho studiato dove mi sono formato mi sono formato nella comunità hacker quindi ho imparato l'informatica da lì e quindi c'è tutto questo mondo del civic hacking dove praticamente alla fine arriva che vogliamo avere i dati per poter comunicare per poter risolvere problemi e da lì vedo una forte necessità proprio di arrivare a costruire oggetti e partire dai dati ed è un approccio che secondo me funziona bene perché nel mondo dell'open data quando mi trovo alle comunità hacker in giro per il mondo quando parliamo di computer vero e proprio sistemi operativi mi trovo persone che sono belle inquadrate che hanno un unico linguaggio e fanno anche molta fatica quando parlo del mondo dell'open data quindi possiamo anche dare la parola open e parlare di dati mi trovo questa interdisciplinaria molto forte dove si troviamo gente che viene dalle scienze umanistiche che ha necessità e si mette in gioco per capire delle cose che prima non faceva mi ricordo come sono scritto a sociologia c'era un po' di gente che dopo un po' davanti ai esami di statistica scappava e si trasferì in un'altra facoltà perché aveva paura della statistica poi adesso invece le stesse persone tornano a chiedere come interpretare questi dati è molto difficile però io penso che in questo momento qua questa necessità di capire più i dati questa parola che appunto mi chiedono di fare un corso per le piccole imprese edili fa sì che ci stiamo aprendo in quella direzione e in quella direzione stiamo capendo il valore di questi dati e nasce questo desiderio di capire meglio le cose poi io parto sempre dall'idea che se ti faccio vedere l'output dopo vuoi imparare a costruirlo e quindi è un percorso bello secondo me ma anche molto insidioso ma secondo me ci sono delle competenze diciamo di base che accomunano in generale quelle che sono gli strumenti che dovrebbe avere il data scientist dalla statistica a competenze computazionali e competenze matematiche c'è il fatto che secondo me la definizione di per sé di data scientist non esiste se non applicata a specifiche discipline cioè quello che in realtà sta succedendo sia diciamo a livello accademico quindi delle discipline sia a livello poi della pratica come dicevo prima nella questione del business e del management che deve aprirsi a data driven decision a decisioni guidate dai dati il fatto è che in realtà c'è una un approccio sempre più basato sulla scienza dei dati nelle diverse discipline quindi quello che è molto importante è che siano persone se si vuole formare uno scienziato dei dati che è uno scienziato sociale dei dati deve avere una fortissima formazione in scienze sociali e in approcci computazionali e statistici uguale se invece una persona più interessata alla parte economica quindi c'è una competenza di dominio che deve essenzialmente mantenere e deve arricchirsi della parte di scienza dei dati anche nei lavori che ho mostrato io si parte da teorie che sono teorie di scienze sociali non si parte dal dato di per sé si parte da quelle e si cerca di quantificare capirle e vedere se questa quantità enorme di dati che hanno bisogno anche di metodologie totalmente nuove rispetto a quelle attuali può far scoprire anche cose nuove non solo testare cose vecchie beh sì penso che la nostra stessa presenza poi avete capito da dove veniamo anche dal modo in cui parliamo è la dimostrazione del fatto che ci deve essere una formazione di base del data scientist che è multidisciplinare è stato già detto negli interventi che mi hanno proceduto la cosa particolare per esempio io ho una formazione più metodologica e anche Ivano io mi ricordo tanti anni fa non si parlava mai di questi argomenti perché ancora non erano nati e chi si occupava dei dati doveva confrontarsi con la statistica ufficiale esiste ancora la statistica ufficiale vedate nel senso che anzi è il dato che viene usato per affini poi dimostrativi di qualcosa molto spesso quando ci sono due dati diversi magari un big data e un dato ufficiale alla fine per certe procedure amministrative quello che conta è il dato ufficiale esiste ancora la statistica ufficiale esiste il sistema statistico nazionale italiano di cui il riferimento è l'istat e poi per esempio i comuni sono un ente del sista e quindi sono i soggetti che producono il dato ufficiale e noi ci siamo formati in questo modo cioè studiando i dati ufficiali che sono quelli che avevano i crediti per poter riscrivere i fenomeni adesso si sono inseriti tutti questi nuovi mole di dati di fonte diversa big data open data più o meno ufficiali che ha fatto sì che diverse persone si occupano appunto del tema della statistica o comunque del dato quindi è una sfida ancora rispetto alla sfida che tu ponevi nella tua domanda per il soggetto che avrà questo tipo di formazione avrà la capacità di gestire diversi tipi di dati di diverse fonte e con diverse titolarità di procedura che è ben diverso nel caso di un dato per esempio che viene raccolto in un servizio per le dipendenze di un'asla che devono ogni sei mesi raccogliere il dato da mandare alla prefettura che devono mandare al ministero della salute degli interni che producono i rapporti che vengono studiati studiavamo noi quando facciamo ricerca sociale rispetto ai dati che provengono invece da fonti diverse ma questa è una sfida interessante è una sfida però dire che è una sfida non so quale sarà l'esito della sfida perché il tema dell'ufficialità comunque dovrà prima o poi essere ripreso tieni conto che la stessa Istat si sta andando verso i big data e sta procedendo su queste procedure quindi anche loro si stanno trasformando e puntando sull'integrazione delle fonti dati amministrative in modo tale da superare i gap che tu hai normalmente con le indagini campionari e standard che hanno anche loro ma questo lo dico perché ho fatto questo riferimento all'ufficialità perché poi torna anche indietro sulla formazione mi ricordo lo statistico di tanti anni fa lo riconoscevi subito anche dal modo in cui si vestiva si comportava parlava era una classica figura ha lavorato in legge a volte persino a volte ha lavorato anche in legge che poi dopo faceva lo statistico oppure ha lavorato in economia oppure pochissimi casi in cui c'erano le facoltà di statistica c'erano pochissimi in Italia di facoltà di statistica per cui questi statistici avevano una formazione molto rigida ed erano quelli che si ritenevano gli unici che potevano trattare di dati adesso il mondo è completamente cambiato perché ci sono tutti gli altri persino i sociologi o persino i filosofi antropologi figure diverse i data scientist chissà cosa saranno tra poco che andranno a parlare di dati quindi questo discorso della pluralità della formazione di base è interessantissimo però è tutto ancora da vedere che tipo di figura porterà e quanto riconoscimento sociale verrà questo tipo di figura e quanta capacità di essere inserito nelle strutture pubbliche e private per poter lavorare e valorizzare le proprie competenze è veramente una cosa nuova sì le difficoltà sono soprattutto che deve essere interdisciplinare multidisciplinare e questa è come vi raccontavo però una richiesta un po' generale di tutte le tecnologie sempre più se è una convergenza richiesta di convergenza di tecnologie è un cambiamento culturale non facile perché la terza rivoluzione industriale parlando appunto sull'aspetto tecnologico puntava ancora molto sulle specializzazioni quindi noi abbiamo ancora molta formazione verticale quando adesso abbiamo bisogno di molta trasversalità quindi sì molta trasversalità su diciamo gli strumenti perché sono necessarie competenze informatiche matematiche statistiche ma poi anche sul dominio perché c'è appunto data science per le scienze sociali per le scienze economiche o per l'industria ad esempio in cui ha bisogno di forti competenze tipo ingegneristico proprio perché il dato di persone non dice nulla bisogna anche contestualizzarlo quindi conoscere e avere le idee generali nell'industria in particolare sempre più richiesto vi raccontavo prima di questi sistemi cyberfisici si parla adesso di digital twin cioè gemello digitale di quello che è il processo la macchina l'apparato e si sta sempre più lavorando su questo per migliorare l'efficienza la sostenibilità per ridurre i tempi di sviluppo prototipi vengono quasi mai usati adesso c'è tutto un modello che però deve essere abbastanza sofisticato da farci capire come un sistema complesso poi in realtà funziona quindi sono cose molto molto complesse ultimo aggancio scusate anche su se diceva prima il cambiamento culturale che è necessario non solo per passare dalla specializzazione la trasversalità ma anche per capire quanta è l'importanza del dato che viene fornito per chi deve decidere ecco e qui una parte fondamentale della data science credo sia importante che oltre al dato riesca a dare anche un livello di fiducia di quel dato di utilità e quel dato per le decisioni a prendere questo è anche importante sicuramente è fondamentale comunque come capite il data science è una figura che sa tante cose ma permette anche di muoversi in tanti campi professor Petri io volevo chiederle di tornare sulla suggestione finale della sua presentazione perché ci ha fatto anche vista l'ora ci ha fatto venire l'acquolina in bocca sul nuovo rinascimento e allora volevo capire poi in concreto che diciamo che cosa vuole in pentola cioè se c'è qualche esempio per esempio di questa trasversalità oppure di queste nuove magnifiche sorti connettive perché insomma il dato di mille dispositivi a persona potrebbe anche diciamo insomma suonare diversamente insomma quindi se ci fa qualche esempio in quella direzione la ringrazio quello che volevo trasmettere era che la tecnologia oggi è arrivata a un punto tale che può avere effetti dirompenti in sensi positivi o negativo ecco e quindi come possiamo dare una garanzia che i risultati che otteniamo siano positivi secondo me sono anche qui ci insegna un po' la natura credo sono due le cose essenziali che vengono richieste alle singole persone e a tutte le società uno è la capacità di adattarsi e qui le cose stanno cambiando velocissimamente e occorre adattarsi velocissimamente due l'altro aspetto per risolvere i problemi è quello dell'organizzazione di cooperare e anche qui ci vogliono società che riescono a cercare di mettersi assieme per risolvere i problemi purtroppo non mi sembra che le cose stiano andando così però queste sono le strade insomma che un approccio scientifico alla natura ci dice sono quelle da perseguire per cercare di essere capaci di usare il fuoco non per scottarsi ma per cucinare insomma ecco questo io avrei una domanda che riguarda un po' un discorso più ampio nel senso che ho l'impressione che in Italia o in generale ci sia un po' la paura nei confronti penso a livello di formazione della matematica della statistica dei numeri eccetera allora mi sembra che questa data science abbia la potenzialità di essendo così trasversale di cancellare un po' la volta questa paura ci sono dei progetti dell'FBK dell'università in cui lavorate eccetera per partire nella formazione anche non dico dei bambini però davvero partire tanto indietro per far sì che nasca una società in cui c'è meno paura del dato e che la data science aiuti a superare la paura dei numeri dei dati e a far capire che ha un'utilità sociale e fondamentale insomma grazie è domanda importante sicuramente ci appogliamo anche noi allora come università sì abbiamo molti contatti con gli istituti superiori però non con le scuole elementari qualche occasione c'è so che l'FBK non è a di più di queste iniziative non so se naturalmente volete parlare voi però anche qui siamo convinti ma non solo noi in particolare in Italia ma non solo in Italia che è anche un discorso di cultura generale della società ad esempio noi abbiamo ancora poche relativamente pochi iscritti alle lauree tecnico-scientifiche rispetto a quello richiesto al mondo del lavoro perché quasi completamente ci manca la componente femminile specialmente molte lauree in ingegneria e perché? ma perché spesso c'è una cultura diversa perché poi le ragazze iscrivono a noi forse saranno più motivate ma vanno molto meglio in media dei colleghi maschi e anche portano un contributo all'ambiente lavorativo mi dicono che è importante ecco noi stiamo perdendo 50% del mondo su questa parte insomma questo è importante e stiamo cercando di puntare anche su quello beh insomma la sociologia non ha mai studiato la matematica però il però quanto non è vero fino in fondo da noi non con l'esame di matematica sociologia c'è c'è sempre stato però non in tutte le facoltà di sociologia quindi per quanto riguarda il sociologo informazione l'opportunità di elaborare dati sicuramente ha migliorato l'approccio alla matematica e perché ne ha visto l'applicabilità in maniera un po' più semplice e più pratica anche e quindi è stato un fattore positivo e detto questo però c'è tantissimo da fare anche da noi Milano per esempio abbiamo difficoltà per esempio a fare dei corsi sui GIS e non riusciamo a farli non riusciamo a farli perché o meglio non li facciamo li facciamo perché lo facciamo perché c'è qualcuno di noi che insiste però ho ancora dei colleghi che non ritengono necessario un'analisi una rappresentazione spaziale del dato se studi le scienze del comportamento e invece questo per dirvi che ci sono ancora delle resistenze nella capacità di convincere qualcuno detto questo però i ragazzi la pensano diversamente la pensano diversamente si stanno creando Milano Bicocca delle cose interessantissime io sto lavorando con i miei colleghi di scienza dell'ambiente tantissimo sempre di più sono entrato in un ufficio sostenibilità dove mi occupo di altre cose legate alla mobilità lavoro tantissimo con i miei colleghi di biologia di geologi scienze della terra abbiamo creato per esempio un master una delle diverse sanme scule sull'uso del dato la sua rappresentazione cartografica ed è molto richiesto dai sociologi poi nel momento in cui glielo offri questa cosa viene colta c'è molta resistenza da parte della disciplina nel mio caso e da parte dei colleghi più anziani che non hanno questo tipo di approccio una delle iniziative che è FBKA però io non sono la persona più brava la persona più brava è seduta lì a descriverla Giuseppe Jurman è Web Valley che è una scuola estiva in realtà la cosa molto interessante è che è una scuola dove non solamente si insegna ma dove si fa anche ed è aperta essenzialmente a studenti delle superiori sia italiani che fuori e si fanno progetti che sono progetti sui dati dati applicati all'agricoltura alla medicina ma la persona giusta è veramente Beppe lui potrebbe raccontare meglio di me però penso che sia una grandissima iniziativa per cercare di avvicinare già prima dell'università le persone hanno un approccio quantitativo di dati a capirli e anche a fare con i dati quindi a sviluppare proprio progetti e prototipi solo due parole su quello che ha detto Bruno noi facciamo questa scuola oramai da 18 anni coinvolgiamo una ventina di ragazzi della quarta superiore per quanto riguarda i profili italiani e junior e senior per i profili statunitensi ovvero nell'anno subito prima di ingresso al college e l'idea è di portarli in un villaggio quanto più isolato del Trentino per tre settimane dotarli di un laboratorio informatico completo diciamo con una rete su cui appoggiamo a Trentino Network a 100 megabit a dargli tutte le possibilità diciamo tecnologiche e proporgli una sfida una sfida scientifica da svolgere in tre settimane che non è una sfida calata dall'alto per quella particolare scuola ma è una parte di un lavoro che noi stiamo facendo con qualche nostro collaboratore in giro per il mondo quindi abbiamo collaborazioni con laboratori appunto come diceva Bruno dalla biologia alla parte ambientale alla parte farmacologica alla parte diciamo di agricoltura e lì proponiamo una sfida che è di interesse per chi la propone per il per il proponente che può essere appunto uno sviluppo tecnologico o uno sviluppo scientifico facciamo una settimana di training quindi facciamo lezioni gli strumenti che serviranno quindi la parte tecnologica vuol dire gli insegniamo un linguaggio di programmazione a volte lo sanno meglio di noi gli insegniamo la scienza che sta dietro e poi gli diamo diciamo li guidiamo a trovare una soluzione sentendo quali sono le loro idee che è la cosa diciamo più innovativa che troviamo in questa scuola che appunto oramai è 18 anni che la facciamo fino adesso sono sempre stati soddisfatti i ragazzi che ne sono usciti e diciamo come primo approccio a a una scienza dei dati interdisciplinare crediamo che sia l'età giusta la fine delle superiori verso metà fine superiori è il momento in cui sono pronti a cogliere questa sfida bene hanno già raccontato di WebValley che tra l'altro ho avuto anche la fortuna di fare il tutor più di una volta ci sono anche altre attività dentro FBK che incontriamo a scuola eccetera però voglio spostare l'asse da un'altra parte che è il mondo del giornalismo da quando ho iniziato a occuparmi di Open Data sono spuntati come funghi appunto i giornalisti che si vengono a occupare di questo e le due cose su cui loro vengono attratti in maniera veramente come il miele è la visualizzazione dei dati e le mappe e molti chiedono questo allora inizio quando parlo di una storia di 7-8 anni e non sto parlando comunque di un lasso temporale così breve eccetera inizialmente avevo gente proprio che diciamo cercava di riciclarci nel settore per trovare un altro spazio io poi come elettorio di Palavolo ho sempre detto guarda che io conosco giornalisti che gli do il risultato della partita gli dico 4 cose gli do il tabellino della gara e mi fanno l'articolo e quindi è già una cosa che già fanno in realtà poi in questi anni sono arrivati sempre di più tant'è che di recente l'ordine giornalisti del Trentino Alto Adise mi ha chiesto di fare un corso di introduzione al data giornalismo dopo sto corso sono gasato e mi hanno chiesti 9 e adesso ho 9 lezioni che farò con i giornalisti dell'ordine su loro richiesta che vanno dalla raccolta del dato alla pulizia alla rappresentazione chiaramente bisogna anche calare come si diceva poi prima le interdisciplinarietà del fatto calare anche su quelle che sono le aspettative e partire come diciamo sempre dal risultato finale o trarai questo come fai a farlo questo chiaramente matematica magari all'inizio non la vedi proprio comincia a parlare di statistica quella descrittiva però poi ho visto che quelli che hanno cambiato il loro punto di vista hanno iniziato anche a mettere le mani su cose più complesse e quindi è proprio un qualcosa per cui io penso c'è la possibilità di mettersi in gioco forse magari quando sei a scuola è noioso io scherzando ogni tanto dico sapendo che mi adesso mi tiro dietro l'antipatia di qualcuno ho studiato i numeri immaginari non ho mai capito a cosa servono perché è quello che succede quando sei alle scuola però dopo quando incominci a vedere i risultati queste cose sono importanti prima Beppe diceva che arrivano alcuni ragazzi che sono più bravi di neoprogrammare a WebValle poi è anche vero che sono selezionati però veramente adesso la prossima settimana devo andare in un liceo mi hanno invitato all'assemblea di fargli un tutorial da 90 minuti su come generare mappe e un altro su come studiare reti sociali quindi alla fine quindi alla fine sostanzialmente partendo da questi risultati le persone vedono cosa sta accadendo sono pronti poi a mettersi in gioco per capire cose che considerano difficili e sicuramente l'ultima cosa che dico al condizionato mio Dario questo attrae molto c'è molta varietà c'è molta diversità ci sono molte ragazze ci sono molti ragazzi e questo è molto bello sì perché credo che se c'è una cosa è che matematica e statistica inserite in un contesto applicativo sociale assume caratteristiche diverse posso dirti che da quando abbiamo aperto la comunicazione di questa nuova laurea magistrale sono state soprattutto più le studentesse a venirmi a parlare che gli studenti quindi l'idea stessa che sia una frontiera come quella che proponeva ovviamente ingegneria soprattutto ingegneria industriale che ha qualche differenza di genere queste cose qua sicuramente continuerà a desiderare ma sempre più secondo me il problema è quello che ci sta dopo sia come usi queste cose perché se è una struttura arida non invoglia nessuno se però tu invece riesci a far capire che questa cosa la puoi declinare sfruttare per fare altre cose molto più importanti di tipo sociale la diventa una cosa diversa e quindi anche chi potrebbe essere più restio potrebbe iniziare è ovvio che è un processo lungo non è un processo che partirà domani però sta cambiando tieni conto che per esempio a matematica adesso siamo quasi al 50% di studenti studentesse a ingegneria informatica siamo a 40-60 quindi le donne stanno iniziando a partecipare quindi le differenze di genere si stanno già riducendo è ovvio che in questa cosa l'ottica e la cultura di quello che si chiama la cultura del dato è ancora una cosa difficile da far capire soprattutto in Italia ed è difficile da far capire soprattutto in un ambito che è quello della pubblica amministrazione la SIC è un grosso problema perché questi potrebbero avere sono seduti in una miniera d'oro ma non sanno cosa farsene e quindi buttano via informazioni se non ci sono altre domande essendo le 13.30 e vedendo l'organizzatore ringrazierei tutti quanti ricordo che fuori c'è un foglio con alcune informazioni sulla laurea di data science nonché il sito web dove potete andare a prendere altre cose ci rivediamo al festival dell'economia dove abbiamo un altro evento e ringrazio tutti quanti ringrazio i relatori spero che abbiate appreso qualcosa di nuovo o che qualcosa di più chiaro grazie ancora grazie 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 grazie